Non poteva esserci giornata migliore domenica per celebrare la chiusura dell'attività estiva del Carval Furva. Solo esplendente e cielo terzo sono state infatti le prelogative della 26esima edizione della Carval Furva, che il MESC come tradizione vuole si svolge a fine settembre. Sono stati ben 282 i concorrenti in assi di partenza per la corsa non competitiva alla prova di mountain bike, sui 10 chilometri disegnati proprio fra i sentieri del comune alto voltellinese, per 400 metri di dislivello positivo e 250 negativo. La partenza, come al solito, dal palazzetto dello sport di Val Furva, per poi attraversare San Gottardo, Pradaccio, Punta delle Tre Croci, Fantelle, Cadalberto e Canareglia, Teregua ed arrivo al campetto di Genolecia. Nella prova di mountain bike, a dominare la scena è stato, come al solito, Davide De Monti, che ha messo in fila Dario Crapella e Marco Vitalini, mentre nella prova di corso in montagna, gara combattutissima, giocata sul filo dei secondi, dove a privarere è stato Gabriele Motta, su Michele Gasperi e Venanzio Compagnoni. Nella gara rosa, invece, miglior ciclista Francesca De Cas, seguita da Michele Andreola, mentre con le scarpette ai piedi, ad avere la miglia è stata la promessa Francesca Maiori, inseguita dalla fondista Jael Compagnoni ed Alessandra Valgoi. Dietro di loro, tantissimi camminatori, famiglie con bambini, giovani e meno giovani, che si sono poi ritrovati tutti insieme al palazzetto di Sant'Antonio Val Furva, dove è stata celebrata la Santa Messa da parte di Don Andrea Caelli. Per poi pranzari erano oltre 600 commensali, davanti ad un fumante piatto di polinta. Durante le premiazioni è stato poi segnato anche il premio Colo Mike, dedicato ai giovani alla montagna, consegnato a Stefano Confortola.